Ragazzi prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che abbiamo ripreso le giveaway dove regaliamo criptovalute gratis e quindi ogni lunedì annunceremo un nuovo vincitore della giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E voglio anche ringraziare tutte e quante le persone che si sono iscritte al canale e se siete nuovi e potreste considerare l'iscrizione se non l'avete già fatto sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille e buona fortuna a tutti per la giveaway e adesso cominciamo con il video. Perché abbiamo visto una discesa in bitcoin? Perché stiamo vedendo bitcoin andare verso il basso? Questo è ciò di cui parleremo oggi ma cosa più importante devo mostrarvi questo grafico e quindi se avete bitcoin allora questo è un grafico che vorrete guardare perché ci sta mostrando qualcosa di interessante per l'immediato e breve termine e inoltre parleremo anche dei mercati tradizionali. Ragazzi come sempre bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano video riguardo le cripto ogni giorno, mostrando come fare soldi in questo tipo di mercato e se siete nuovi potreste considerare di iscriverti e fare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico. E passiamo direttamente al grafico da 4 ore e molte persone mi hanno chiesto perché stiamo scendendo. Bene, se avete guardato i miei video precedenti, se avete visto alcuni dei miei video che ho pubblicato di recente precisamente nel video con la thumbnail dove vi ho detto di non farvi ingannare perché c'è una cosa molto importante a cui presto l'attenzione in questo momento ovvero la fascia arancione che abbiamo verso l'alto. E quindi la fascia arancione che abbiamo esattamente a circa 50.000 dollari è il motivo per cui non siamo stati in grado di vedere una grande salita in Bitcoin e quindi abbiamo provato a superare questa fascia arancione però rappresentava semplicemente una resistenza troppo forte a questo punto. E ora i boost di Bitcoin hanno fatto un buon tentativo perché hanno colto l'opportunità della scarsa liquidità durante le festività natalizie come a Natale per esempio ed hanno cercato di fare una grande spinta qui per Bitcoin. Ma non era abbastanza, non era abbastanza, abbiamo ricevuto un rifiuto ed è per questo che avete sempre bisogno di... e questo ovviamente non è un consiglio finanziario ma il consiglio che almeno mi sto dando è questo che quando ci avviciniamo alla fascia arancione aspetto sempre se voglio aprire un trade a breve termine aspetto sempre fino a quando non siamo sopra la fascia arancione prima di aprire un trade perché come potete vedere abbiamo appena avuto un piccolo fake out in questo momento e poi siamo entrati di nuovo nella fascia arancione e abbiamo iniziato a scendere verso il basso quindi questi livelli sono molto importanti a cui prestare attenzione se state facendo trading a breve termine e se state facendo trading a lungo termine mantenendo le posizioni per più anni allora qualsiasi opportunità per entrare in Bitcoin sarà molto probabilmente una buona opportunità appunto per entrare a Bitcoin a lungo termine. E quindi detto questo parliamo invece dei livelli di supporto e resistenza abbiamo il supporto a 48.000 dollari e 200 e credo che faremo un nuovo tentativo per Bitcoin anche qui sui tempi più brevi perché sui tempi più brevi ci sono ancora un paio di importanti livelli di supporto a breve termine che abbiamo perché potete vedere che questo livello di cui abbiamo parlato molto siamo entrati in questo canale discendente ed è lì che abbiamo trovato un grande supporto per Bitcoin. Nel grafico giornaliero quindi abbiamo ancora questo che ci sostiene e se le cose si mettono davvero male conoscete già questi livelli di supporto quindi ci sono livelli di cui ho parlato molto di recente e questo livello di supporto è a 45.000 dollari e 700 in altre parole possiamo tecnicamente scendere a 45.000 dollari e 700 ad avere la struttura rialzista ancora intatta sui tempi più lunghi. E la stessa cosa vale anche con l'altro grafico che vi ho mostrato quindi abbiamo la stessa identica cosa anche in quest'altro grafico tecnicamente possiamo di nuovo scendere a 45.000 dollari e 300 rimandere ancora bullish sui tempi più lunghi ma nei tempi più brevi alla fine dobbiamo superare la fascia arancione che abbiamo e credo che lo faremo perché se vedete i mercati tradizionali in questo momento voglio mostrarvi l'SP500 per quanto riguarda il prezzo di ieri o di questo periodo perché hanno raggiunto il massimo storico quindi hanno raggiunto il massimo storico mentre Bitcoin invece sta andando di lato o verso il basso ma ogni volta che questo ha fatto o che questo è successo alla fine ha sempre portato ad un enorme rally al rialzo per Bitcoin e quindi lasciate anche che vi mostri un altro grafico perché voglio mostrarvi il grafico del prezzo di Bitcoin la linea blu sono i mercati tradizionali e se rimpicciolisco il tutto potrete vedere che si stanno rispecchiando abbastanza bene qui quindi questo dimostra solo la correlazione tra i mercati tradizionali e Bitcoin ma quello che potrete vedere è che Bitcoin ha avuto davvero un enorme rally durante il 2021 in pratica dalla fine del 2020 e il 2021 siamo saliti a 69 mila dollari oppure in questo caso in realtà era salito a 64 mila dollari dove abbiamo avuto il primo massimo storico prima di scendere e quindi poi siamo scesi e abbiamo iniziato a scendere ma i mercati tradizionali ovvero la linea blu potrete vedere che in realtà hanno continuato a salire mentre Bitcoin stava scendendo quindi l'SP500 saliva e poi abbiamo avuto un'enorme azione di prezzo simile anche in questo caso dove i mercati tradizionali sono scesi un po', Bitcoin è sceso ma poi abbiamo raggiunto lo stesso livello di prezzo Bitcoin è salito da verso il basso, dal punto più basso a 30 mila dollari diciamo fino a 69 mila dollari quindi abbiamo iniziato a sovraperformare davvero davvero molto e ora invece se ingrandisco il tutto possiamo vedere che recentemente Bitcoin è diminuito mentre invece i mercati tradizionali hanno continuato a salire e questo di solito porta di nuovo a recuperare il ritardo di Bitcoin alla fine facendo una grande corsa al rialzo perché tutti questi soldi nel mercato azionario la maggior parte credo che alla fine si ritroverà nel mercato delle criptovalute quindi in Bitcoin e anche in alcuni altcoins e credo ancora che ci sarà un rally ad un certo punto ma non ho una sfera di cristallo ragazzi ovviamente tutto ciò che posso fare è guardare questi dati e vedere cosa è successo in precedenza e in questo caso tutto sembra andare bene l'SP500 è a massimi storici, Bitcoin sta scendendo un po' per adesso ma credo che sia solo questione di tempo prima di vedere una grande salita ma per prima cosa ovviamente dobbiamo superare la fascia arancione che abbiamo a 51 mila dollari e 150 e quindi fate attenzione a questo perché molte persone sono state in perdita perché non hanno prestato attenzione a questo livello adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quale altcoin pensate che performerà meglio degli altri in questo ciclo fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori e quindi ragazzi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video ragazzi cercherò sempre di portarvi queste informazioni prima che accadano effettivamente sì questo qua è quello che ho per voi per quanto riguarda questo video quindi grazie mille come sempre per la visione e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti